Fingevano di acquistare carburante per l'estero senza pagare l'IVA e riuscivano a praticare prezzi molto bassi sul mercato attraverso anche le cosiddette pompe bianche. Sono 14 le società coinvolte in una frode allo Stato di circa 48 milioni di euro, sequestrati 170 mila euro in contanti, due orologi di pregio del valore complessivo di 40 mila euro, due imbarcazioni. È l'esito dell'operazione dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno che ha eseguito nelle province di Napoli, Roma e Bari un'ordinanza di custodia cautelare personale emessa su richiesta della Procura di Napoli nei confronti di cinque soggetti indagati in concorso per una frode fiscale nella commercializzazione di prodotti petroliferi. Nello specifico i finanzieri della Compagnia di Scafati coordinati dal gruppo di Salerno hanno notificato il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari ai fratelli Mario e Roberto Murolo, entrambi residenti a Napoli, Giuseppe Savino di Volla, Luigi Borriello di San Giorgio a Cremano e Alberto Masullo residenti a Napoli. Tra gli indagati ci sono anche due titolari di distribuzione di carburanti dell'agro nocerino sarnese. Masullo è considerato l'ideatore del complesso meccanismo evasivo di frode grazie alla vasta e riconosciuta esperienza nello specifico settore, nonché al ruolo di primissimo piano ricoperto nel periodo oggetto delle indagini in una nota compagnia pretorifera, tanto da essere ritenuto uno dei migliori responsabili commerciali di prodotti petroliferi in tutto il sud Italia. Il GIP ha anche emesso un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente dei beni riconducibili a 19 degli indagati, nonché alle società coinvolte nella frode per un ammontare complessivo di oltre 48 milioni di euro. Si tratta dell'importo corrispondente all'IVA che è stata indebitamente evasa nell'arco di quattro anni. 14 le società cartiere attorno alle quali ruota il sistema della truffa società senza sede né patrimonio, ha dichiarato il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Salerno Danilo Petruccelli questa mattina nel corso di una conferenza stampa presso il comando di via Duomo. C'erano tanti commerciali che operavano nell'ombra soggetti che si sono occupati della costituzione delle società presentando teste di legno ai notai e sfruttando le conoscenze personali con direttori di banca per far aprire conti correnti. Molte pompe bianche praticavano prezzi inferiori ai parametri PLAZ che impongono un prezzo preciso in un determinato territorio. Il significato importante di questa operazione è sottolineare e porre all'attenzione dell'opinione pubblica il grave disvalore dell'evasione fiscale, vuol dire sottrarre risorse a tutti gli investimenti e alle opere che il governo può effettuare a beneficio della cittadinanza e soprattutto delle fasce più deboli della popolazione. In questo caso il dato eclatante è appunto l'essere riusciti a sottrarre alle casse dell'erario 48 milioni di euro su valore aggiunto con una movimentazione di carburante che supera i 200 milioni di euro nell'arco di quattro anni appunto. In effetti l'indagine è partita, diciamo, riguardato due società dell'agro nocerino sarnese tant'è che l'indagine inizialmente è stata diretta dalla procura di nocera inferiore. Poi nell'approfondimento delle indagini, nella ricostruzione delle movimentazioni finanziarie e delle fatturazioni tra i soggetti coinvolti è emerso chiaramente che la collocazione principale dell'organizzazione era nell'area napoletana. Di conseguenza è superentrata la procura di Napoli nella direzione delle indagini. È importante sottolineare come riuscire a mettere in consumo carburante in nero vuol dire evadere significativamente sia l'imposta sul valore aggiunto che le accise, quindi che hanno un peso, un'incidenza percentuale notevole sulla determinazione del prezzo finale al distributore. I meccanismi di frode sono svariati. In questo caso c'è stato l'utilizzo di queste dichiarazioni d'intento, quindi la possibilità di andare al deposito di carburante e acquistare direttamente senza l'addebito dell'IVA. In altri casi si assiste all'acquisto di partite di carburante all'estero che poi viene dichiaratamente destinato a delle vendite intracomunitarie, di fatto viene immesso in mercato in nero, quindi senza che siano pagate le imposte.